Sono inaccettabili le persecuzioni nel nome della religione ed è un grande dolore constatare che la persecuzione contro i cristiani è più forte oggi di quanto lo fosse nei primi secoli della Chiesa. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo i partecipanti ai lavori di un congresso internazionale sul tema della libertà religiosa. La libertà religiosa, ha detto, è libertà di vivere secondo i principi etici conseguenti alla verità trovata, sia privatamente che pubblicamente. Gli ordinamenti giuridici sono chiamati pertanto a riconoscere, garantire e proteggere la libertà religiosa, che è un diritto intrinsecamente inerente alla natura umana. E la libertà religiosa recepita nelle Costituzioni e nelle leggi e tradotta in comportamenti coerenti, favorisce lo sviluppo di rapporti di mutuo rispetto tra le diverse confessioni e una loro sana collaborazione con lo Stato, in una globale collaborazione, ha detto il Papa, in vista del bene comune.